Partirà dallo Stadio Tuglio, Saleri di Lumezzane, il cammino del Teramo nella prossima Lega Pro. La sfida contro i Lombardi sarà la prima di 38 appuntamenti che vedranno il Diavolo provare a riscattare una stagione opaca. Nel Teatro Reggio di Parma il sorteggio dei tre gironi e per il Diavolo subito un test duro contro gli uomini di Antonio Filippini. L'esordio al Borolis la settimana successiva contro il Bassano. Alla quarta, 14 settembre, primo turno infrasettimanale, il Diavolo se la vedrà tra le mura di casa col Modena appena retrocesso dalla Serie B. Mentre dopo quattro giorni la partita speciale per Zauli, Ilaria e Peterman al Valentino Mazzola contro il Sant'Arcangelo. Altro match dall'indubbio fascino all'ottava, in Abruzzo arriva il Padova con i biancoscudati veneti che stanno tentando una fannosa risalita verso palcoscenici di primo livello. La settimana successiva, 16 ottobre, trasferta contro una delle pretendenti al primo posto, il Venezia di Filippo Inzaghi. Altro match che sicuramente non denuderà le attese, quello del 13 novembre a Riviera delle Palme per un San Benedettese Teramo già da grande pubblico. La settimana dopo, biancorossi che ospitano l'Ancona e poi si recano a Reggio Emilia per sfidare i Granata della Reggiana. La penultima giornata però, 11 dicembre, lo scontro che tutti aspettano al Tardini, va in scena a Parma-Teramo prima di concludere il girone in andata contro la Felapisalò in terra d'Abruzzo. Particolarità di quest'anno è il Boxing Day, come in Inghilterra si gioca durante le festività natalizie, il 26 e il 30. A Santo Stefano inizia il girone di ritorno con la prima giornata, alla vigilia del nuovo anno, la trasferta a Bassano. Tre i turni infrasettimanali, il 13 e 14 settembre, il 6 e 7 dicembre e il 4 e 5 aprile. Altra novità sarà il turnover, un girone giocherà sempre di sabato per tre mesi, gli altri due di domenica, poi il cambio, fino alla chiusura del campionato. Si inizia domenica 28 agosto, stagione regolare che terminerà domenica 7 maggio, poi via play-off e play-out sognando il salto in Serie B. Il Teramo è pronto a partire, anche se dovrà farlo, senza Stefano Amadio, il centrocampista, escluso anche dall'amichevole vinta a Morrodoro, è destinato a fare le valigie e lasciare i biancorossi.